Un Natale con il fiato sospeso in attesa di un 2018 che si spera non porti ulteriori notizie negative per i lavoratori della Italcementi di Salerno, il cui impianto da tempo è stato ridimensionato a semplice centro di macinazione. La decisione di Italcementi, ora di proprietà di Heidelberg, di acquisire però Cementir rischia di creare altri problemi con l'antitrust che potrebbe chiedere alcune dismissioni. La questione è stata portata in consiglio comunale dal consigliere Nico Mazzeo che ha chiesto all'amministrazione di convocare Italcementi, un invito raccolto dall'assessore allo sviluppo di Luca che ha incontrato durante la riunione del consiglio i lavoratori e dal sindaco che ha promesso un impegno in favore della storica azienda salernitana. Abbiamo il dovere di dover cercare un contatto diretto con l'azienda, cosa che in passato abbiamo fatto e che oggi vogliamo assolutamente e dobbiamo assolutamente riallacciare, garantendo ai dipendenti una nostra vicinanza nel percorso che si dovrà poi attuare. Se Heidelberg e Italcementi adesso qual è il marchio preciso non lo sappiamo, con l'acquisizione di Cementir si verrà ufficializzata totalmente a gennaio, noi dobbiamo assolutamente fare uno scatto in avanti e come politica interessarci a convocare se è possibile invitare qui a stare con noi i massimi vertici di talcementi a Heidelberg per capire qual è il futuro dell'impianto salernitano considerando che è il più nuovo d'Italia e che anche con l'acquisizione eventualmente di quest'altro colosso diventerebbe tra i migliori in assoluto. Noi dobbiamo garantire e dobbiamo dare la possibilità ai nostri cittadini, ai nostri lavoratori del territorio di poter trovare uno sbocco futuro e di continuare a lavorare in maniera normale come è stato fino ad oggi. Noi speriamo che nel 2018 possa esserci una novità buona per noi, però da quando abbiamo saputo al momento questo non sembra la strada percorribile, perché i talcementi con l'acquisizione del gruppo Cementir, avendo creato una sovrapposizione sul mercato della Campania, tra noi e la Cementir di Mandaloni c'è una difficoltà di mercato che loro dovranno eventualmente risolvere voi. In questo momento la situazione a Salerno qual è? Attualmente è a centro di macinazione con 26 unità e altre 22 unità fuori dal contesto lavorativo, in cassa integrazione fino a dicembre 2018, dopodiché poi non c'è più nulla.